Il Picerno torna alla vittoria dopo sette turni di astinenza. La capolista Benevento perde dopo sette risultati utili di fila. Bernardotto, alla terza rete in cinque presenze con il rosso-blu, griffa l'1-0 del Curcio e riporta i tre punti nelle casse della squadra allenata da Francesco Tomei. Le formazioni, moduli speculari per le due squadre. Il 4-2-3-1 del Picerno prevede Energet, Petito ed Esposito alle spalle di Bernardotto. Auteri replica con il trio Lamesta, Manconi, Simonetti a supporto di Perlingeri. La prima occasione del match è dei padroni di casa. Punizione da destra di Esposito per la testa di Allegretto, stacco di poco a lato. Seconda occasione ancora per il Picerno. Ancora dalla destra Pagliai mette in area un ottimo cross per Petito che chiude a lato di testa. Il primo squillo ospite, griffato Talia, tentativo dalla media distanza dell'ex potenza. Grande risposta di Summa. Grandissima occasione per il Picerno poco dopo l'ora di gioco. Petito trova spazio al limite dell'area e calcia. Ottimo l'intervento di Nunziante, ma il vantaggio dei padroni di casa è nell'area. È matura al settantesimo. Pagliai sfonda a destra e assiste al centro. Bernardotto in area piccola e più lesto dei centrali avversari e batte Nunziante. 1-0 e terza rete in poco più di 300 minuti in campo per il numero 9 del Picerno. Decisiva nell'economia dell'azione la giocata di Vitali, appena subentrato. Il Benevento va a un passo dal pareggio all'ottantesimo. Manconi stringe sul destro e calcia forte dal limite dell'area. Summa è portentoso nella risposta. E 1-0 al Curcio. Il Picerno sale a 21 punti e aggancia il Trapani in piena zona playoff. Campani ancora primi a quota 29. Sabato prossimo Picerno di scena a potenza con il Sorrento alle 17.30. Benevento in campo domenica alle 17.30 nel derby del Vigorieto con l'Avellino.